Salve e bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale che avremo parlando ancora della vicenda open land. Sono tante le polemiche in consiglio comunale questa mattina, si è arrivati anche a chiedere l'intervento della Digos. Vediamo perché. Il consiglio comunale di Siracusa avrebbe dovuto affrontare questa mattina la vicenda relativa al maxirisorcimento dei danni richiesto dalla società open land ma anche della vicenda cosiddetta contributopoli. Nessuno dei due argomenti è stato trattato, atteso che la maggioranza aveva proposto il prelievo di alcuni punti diversi da quelli programmati. L'opposizione ha criticato questa scelta non trovando sponda nella maggioranza che ha continuato per la sua strada. I consiglieri Castagnino e Vinci hanno quindi invocato la presenza in aula degli agenti della Digos, la cui pattuglia è giunta poco dopo. Nel frattempo però, venuto meno il numero legale, il presidente del consiglio comunale Leone Sullo ha sciolto la seduta per riconvocarla. La riunione odierna nasceva già sotto cattivi auspici perché convocata in un giorno di settimana in cui i deputati nazionali e regionali invitati a partecipare ai lavori d'aula di fatto sono impegnati a Roma e Palermo. Il consiglio comunale è chiamato a discutere della vicenda open land come è sollevato dalla consigliera Simona Princiotta che vuole comprendere quale sia la strategia dell'amministrazione comunale per far fronte al risarcimento dei danni, chiesto dalla società che sta realizzando un centro commerciale nella zona di Epipoli che il consulente nominato dal CGA ha quantificato in 23 milioni di euro. I consiglieri Castagnino, Vinci, Alota, Sorbello, Firenze, Milazzo e Princiotta hanno poi insistito ad affrontare la questione dei contributi onerosi che l'amministrazione comunale ha elargito nel mese di dicembre a vario titolo per un importo complessivo di 600 mila euro. E quindi la seduta è stata rimandata a domani e abbiamo dato notizia del fatto che la Guardia di Finanza questa mattina comunque era al Palazzo Vermexio mentre l'aula del Consiglio comunale avrebbe dovuto essere affrontato il tema, l'abbiamo detto nel servizio precedente, il maxi risarcimento all'open land e le pattuglie delle fiamme gialle si sono recate negli uffici comunali per acquisire documentazione relativa proprio alla vicenda che si stava trattando in quell'attimo in aula, ovvero all'open land. I militari hanno acquisito diversa documentazione e tant'è. Agitazione per gli operatori IGM, da ieri sera stazionano presso la sede di Viale Ermocrate, il servizio è sospeso ed è visibile per le strade e la città anche perché stanno aspettando un stipendio che sta ritardando, a loro dire sta ritardando molto, ma da sei mesi specificano veniamo pagati a Singhozzo. Continua la manifestazione degli operatori GEM, da ieri sera, la notte l'avete trascorsa qua o questa mattina ancora qui in gran numero perché voi aspettate uno stipendio che non arriva? E allora noi abbiamo programmato tutte le sette sigle sindacali uno sciopero perché dovevamo farlo il giorno 28 e così è stato perché non abbiamo avuto fino all'altro ieri notizie dello stipendio del mese di aprile. Ieri l'azienda ha comunicato che il giorno 30 ci pagherà, ci darà il 60% dello stipendio di aprile. A noi non ci sta bene perché il 60% andando in banca non ci resta niente a noi, noi vogliamo tutto lo stipendio direttamente. Noi abbiamo programmato questo sciopero che ci ha fatto fare un giorno, il mese prossimo noi già abbiamo stabilito 15-16 e dai primi 12-13 potremmo fare due giorni di sciopero e lì faremo questi due giorni di sciopero perché vogliamo che noi ogni mese l'azienda il 15% ci deve pagare. Non è la prima volta che voi subite dei ritardi? Noi ha più di sei mesi che ritardiamo questi ritardi, più di sei mesi che non li prendiamo più il 15 di ogni mese. Noi abbiamo scadenze in banca, abbiamo tante cose e quando arriva lo stipendio noi non prendiamo niente perché si gira tutto la banca. A parte lo sciopero, comunque la movimentazione che avete fatto adesso, voi dite il Siracusa non ci odi perché noi comunque continuiamo a lavorare tranne fermarci questi due giorni. Noi stiamo fermando questo giorno e stasera dovremmo ritornare a lavorare tranquillamente, ripuleremo la città come l'abbiamo fatto fino a oggi sempre e poi il mese prossimo, nei primi del mese, se noi non avremo nessuna autista sia del mese di aprile che la rimanenza del mese di aprile, sia nel mese di marzo più che il mese di aprile, noi stabiliremo altri due giorni di sciopero, li abbiamo già programmati e li faremo. Si continua a parlare della vicenda dell'ex Cinema Verga, del rilento per il completamento dei lavori. Nei giorni scorsi abbiamo dato conto di quanto sostenuto riguardo alle responsabilità dall'ex Presidente della provincia Marziano, questa è la volta invece dell'altro ex Presidente Nicola Bono che dice la sua verità. Vicenda Verga, non si piacciono le polemiche, in campo sono scesi in questo caso due ex Presidenti della provincia. Contrapposti, le dice che si è stato chiamato in causa dal Bruno Marziano, dall'ex Assessore Provinciale Spadaro che hanno fatto degli appunti alla sua gestione per quanto riguarda il Teatro Verga. L'hanno accusato di essere il nome, il cognome del fallimento di quel percorso. Lei su questi punti vuole chiarire qualcosa? Ho già chiarito che in questa provincia quando si vogliono nascondere le responsabilità si ricorre alle polemiche fino a se stesse e ai rimballi. Però mentre le accuse di Spadaro e Marziano che hanno governato la provincia, vorrei ricordare, dal 1997 al 2008, per cui il periodo completo in cui si è consumato il disastro del Verga lanciano accuse generiche e non comprovate da nessun elemento di riscontro. Io ho scritto nella relazione di minoranza alla cronistoria dei fatti. Faccio riferimento a delibere ben precise e sono prove provate quelle che vengono ad essere affermate quando si dice che l'incompiuta del Verga è il frutto di due appalti, non di uno, che sono stati varati. Il primo nel 1997 per 3 milioni di euro, il secondo come variante al primo di ben 5 milioni e 600 mila euro nel 2004. I lavori avrebbero dovuto essere finiti già al 31 dicembre 2007, cioè dire ben sei mesi prima il mio insediamento. Invece non solo non erano finiti, ma abbiamo fatto un'indagine interna perché abbiamo maturato i lavori incompiuti e non è affatto vero quello che dice l'ex presidente Marziano che ci volevano pochi mesi per realizzare quell'opera. Ci sono alcuni punti che lei in particolare sottolinea per quanto riguarda gli arredi e l'acustica in particolare? Certamente, non solo si erano spesi 8 milioni e 600 mila euro per lavori che erano rimasti incompleti, ma in quei lavori non erano compressi né l'arredo né l'acustica che in un teatro è fondamentale. Praticamente stavano facendo un magazzino e quindi abbiamo dovuto fare il ricorso a un appalto integrato che in appena nove mesi, quindi altra falsità detta dai nostri amici, che è quella di avere voluto l'appalto integrato che è alla base del prolungamento dei lavori, in nove mesi dalla decisione alla giudicazione provvisoria abbiamo esaurito vendendo il ricordo l'appalto stesso. Dichiarato lo stato di calamità per i territori e la provincia di Siracusa colpiti dal maltempo di Capodanno, il decreto è stato firmato dal Ministro per l'Agricoltura Martino. Il Ministro per l'Agricoltura Maurizio Martino ha firmato il decreto per la dichiarazione dello stato di calamità naturale per i territori della provincia di Siracusa colpiti dal maltempo di fine anno. Occorre ricordare che la giunta regionale approvò con una delibera lo stato di calamità per le gravi intemperie che si verificarono nella provincia di Siracusa durante la notte di Capodanno. L'assessore all'Agricoltura Nino Calea, dopo poche ore dall'evento, si recò sui luoghi per verificare i danni insieme agli uffici IPA e SOAT. Gli uffici del Dipartimento trasferirono la richiesta al Ministero dell'Agricoltura affinché potessero attivare tutte le misure necessarie per garantire agli agricoltori un risarcimento per i danni subiti, quantificato in diversi milioni di euro. Neve, vento e pioggia misero in ginocchio le aziende agricole della zona sud di Siracusa, causando danni alla produzione e alla conseguente paralisi dell'attività. Esprimiamo soddisfazione per essere stati mantenuti in tempi celeri gli impegni assunti dall'assessore regionale all'Agricoltura Nino Calea. Questo è quanto è dichiarato Zecchia Paolo Reale, all'epoca assessore a ramo. Noi adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità per qualche minuto, vi aspettiamo per la seconda parte, a tra poco. Entra nel mondo Gemar Cornetti Dice 320 grammi a 1,39 euro, latte Ragusa 1 litro 68 centesimi, piatti DS 1 chilo 2,84 euro, ammorbidente vernelle 3 litri 1,98 euro. Cerca il punto vendita più vicino a te. Supermercati Gemar Da Gemar trovi sempre un ricco assortimento di prodotti e la sicurezza della migliore qualità al prezzo più basso. Gemar ti invita alla prova. Su di me puoi contare, stanne sicuro. Al buio di notte, nel freddo del mattino. Portami su strade dove non c'è strada. Portami fuori e stanne sicuro. Non chiederti dove, non chiederti come. Facciamoci un giro lontano da tutto. Facciamoci un giro che duri una vita. Fa il pieno di amici, la famiglia al completo. Su di me puoi contare. Stanne sicuro. Gamma Iaris, benzina, diesel e hybrid a 150 euro al mese. E anche se puoi restituirla quando vuoi. Fidati, non vorrai farlo. Toyota, conta su di me. Autosport, concessionaria Toyota, con Trada Tarja, Siracusa. Da Scavolini Store Siracusa. È arrivato il momento che stavi aspettando. Arredare la tua casa con tutta la qualità Scavolini. Acquista una cucina e living da noi. Avrai la parete attrezzata a metà prezzo e la cucina interessi zero. Scavolini Store Siracusa. Consulenza specializzata e progetti personalizzati su misura per te. Perché rinunciare alla qualità? Scavolini, living, bagno, cucina. Vieni a trovarci in Viale Scala Greca 381 a Siracusa. Fermati nei bar dove vedi questo marchio. Scopri il segreto dell'aroma Tropical Caffè. Crea la tua ombra e sfrutta ogni spazio. La tenda Sud Costruzioni ti aiuta nella progettazione e realizzazione di tende per esterni. I migliori tessuti e competenza tecnica garantiscono eleganza e qualità. Soluzioni per balconi, terrazze e per qualsiasi altro ambiente. Offerta del momento. Tenda per balcone a braccetti da 3 metri per 2,90 compreso di montaggio a soli 230 euro. La tenda Sud Costruzioni realizza anche gazebi box auto per gotende zanzariere. A prezzi super scontati. A Siracusa in Viale Luigi Cadorna 81 a Catania Vaccarezzo via Fiordiloto 15. Ricorri ai ripari con la tenda Sud Costruzioni. Bentornati, seconda parte del nostro telegiornale. Capriamo con la cronaca un incendio ad Avola nel corso della notte. Un autocompattatore parcheggiato nel recinto dell'azienda che gestisce il servizio di nettezza urbana. E' intervento dei vigili del fuoco sul posto. Al momento non sono stati trovati elementi che possono far pensare che l'incendio sia doloso. Sono comunque in corso le indagini. Ancora agenti della Polizia di Stato insieme alla Guardia di Finanza hanno arrestato a Lentini un 24enne, Cirino Fichera, già agli arresti domiciliari perché trovato in possesso di 6 grammi di cocaina, mezzo grammo di marijuana e 180 euro in contanti. Processo di secondo grado per gli omicidi Bologna e Giacona. La Procura Generale ha chiesto infatti la conferma della condanna per i due imputati. La Procura Generale di Catania ha chiesto la conferma della condanna inflitta nel febbraio dello scorso anno in primo grado a carico di Antonino Linguanti per l'omicidio a Salvatore Bologna e anche per quello di Salvatore Giacona per il quale dinanzi alla Corte d'Assise di Siracusa era stato assolto per non aver commesso il fatto. Il rappresentante della pubblica accusa ha sollecitato anche la conferma della condanna al carcere a vita per l'ex pugile siracusano Salvatore Battaglia che deve rispondere soltanto all'omicidio Giacona ucciso la sera del 31 marzo incontrata a Pernagallo nel territorio di Cassibile. Il processo di secondo grado è in corso e svolgimento dinanzi alla Corte d'Assise d'Appello di Catania processo che ha preso le mosse delle rivelazioni del collaboratore di giustizia Sebastiano Troia il quale si è autoaccusato di entrambi gli omicidi tirando in ballo Linguanti e Battaglia. In primo grado la Corte ha ritenuto credibile il collaboratore di giustizia quando accusa Linguanti di essere stato l'esecutore materiale dello strangolamento di Salvatore Bologna avvenuto nel febbraio del 2002 e il cadavere rinvenuto qualche giorno dopo della sua scomparsa nelle campagne di Contrada Manghisi. Gli stessi giudici del primo grado non hanno ritenuto credibile Troia invece all'orquando afferma che sia stato Linguanti ad avere deciso la soppressione fisica di Salvatore Giacona a causa di precedenti contrasti nella presunta gestione degli affari leciti nel territorio di Cassibile. Il difensore dell'ex pugile Battaglia, Domenico Mignosa, sarà il primo a svolgere la ringa in occasione dell'udienza fissata per il 4 maggio prossimo. Dopo toccherà l'avvocato Gian Battista Rizza che difende Antonino Linguanti. Ha rimediato una condanna a 10 anni di reclusione un avolese che doveva rispondere al tentativo di omicidio nei confronti di un suo compaesano. Una sentenza di condanna a 10 anni di reclusione è stata emessa dal giudice delle udienze preliminari del Tribunale di Siracusa, Patrice Di Marco, a carico di un avolese ritenuto responsabile della gambizzazione a colpi di pistola del 44enne avolese Corrado Rametta, avvenuta la sera del 28 marzo dello scorso anno. Il verdetto è stato emesso ieri mattina a conclusione del relativo processo, che si è celebrato con il rito abbreviato e che ha visto salire sul banco degli imputati Antonino Buscemi di 43 anni, già noto agli ambienti giudiziari. Il giudice ha accolto in parte la richiesta di condanna avanzata dal pubblico ministero Margherita Brianese, che a conclusione della requisitoria aveva sollecitato per l'imputato la condanna a 12 anni e 8 mesi di reclusione, sostenendo che l'imputato si sarebbe reso responsabile del reato di tentato omicidio. La difesa invece ha insistito sulla derubricazione del reato in lesioni gravi per l'uso di un'arma, come aveva riconosciuto il Tribunale del Riesame nell'affrontare il ricorso subito dopo l'arresto di Buscemi. L'episodio è avvenuto poco più di un anno fa, intorno alle ore 22, nei pressi di un chiosco di Piazza Regina Margherita ad Avola, ma trae origine da un altro fatto di sangue avvenuto 15 anni prima e che ha visto i due protagonisti affrontarsi. In quella circostanza Buscemi subì una ferita d'arma da taglio che gli avrebbe inferto il rametta al culmine di un litigio, le cui cause non sarebbero mai state chiarite del tutto, ma che riguarderebbero una scommessa sui cavalli. Buscemi ha sempre detto di aver cercato di ricomporre la questione con il rametta. Una settimana prima, il fatidico 28 marzo 2014, Buscemi si sarebbe infatti rivolto a un amico per convincere una volta per tutte il rametta a mettere una pietra sopra il passato. I due si sono poi incontrati quella sera vicino a un chiosco e hanno avviato una discussione dai toni subito accesi. Buscemi ha impugnato la pistola semiautomatica calibro 12, esplodendo diversi colpi agli arti inferiori. Rubavano oggetti in rame dalle tombe dei defunti al cimitero di Avola, scatta subito la segnalazione e per questo due avolesi sono stati arrestati a Cassibile. I carabinieri della stazione di Cassibile hanno tratto in arresto in fragranza di reato e di furto aggravato in concorso due uomini, Francesco Bellomo di 30 anni e Franco Sperviero di 66, con precedenti penali a proprio carico, entrambi residenti ad Avola. I due soggetti nel primo pomeriggio di ieri si sono introdotti all'interno del cimitero di Avola e hanno asportato da una tomba due vasi in rame di grandi dimensioni. Dopo aver caricato l'area furtiva in macchina, successivamente si sono dati alla fuga precipitosa in direzione Cassibile. A quel punto, grazie allo scambio di informazione e alle ricerche diramate prontamente dalla compagnia dei carabinieri di Noto, la pattuglia della stazione di Cassibile si è posta nei pressi dello svincolo autostradale nel tentativo di intercettare l'autovettura condotta dagli autori del furto. Pochi minuti dopo è stata bloccata l'automobile di uno dei due, in particolare di Franco Sperviero, all'interno della quale, occultati nel cofano posteriore, vi erano i due vasi di rame rubati. I due arrestati, una volta condotti in caserma per espletare le formalità di rito, sono stati sottoposti al regime detentivo degli arresti domiciliari. I carabinieri della stazione di Cassibile hanno tratto in arresto in fraganza per il reato di rissa aggravata da futili motivi quattro soggetti, tutti di origine marocchina. I quattro ieri pomeriggio avrebbero provocato una violenta rissa causata da futili motivi e accentuata dall'abuso di sostanze alcoliche. La pattuglia dei carabinieri, allertata anche da alcuni passanti che avevano assistito alla scena, è giunta sul posto riuscendo a bloccare i quattro soggetti e impedendo che la situazione degenerasse. Nella colluttazione uno degli uomini riportava traumi al viso giudicati guaribili in cinque giorni, mentre un altro è stato giudicato guaribile in tre giorni. I quattro soggetti sono stati sottoposti al regime detentivo degli arresti domiciliari. Primo maggio alla balza da cradina tra musica, impegno sociale e sport. Questa mattina la presentazione del programma che prevede anche la diretta TV. Un primo maggio di musica e impegno, quello che si prospetta per il prossimo venerdì alla balza cradina tra musica, impegno e spettacolo. Una kermesse che contempla anche manifestazioni di genere sportivo ed educativo. Per il secondo anno le tematiche del lavoro, della giustizia sociale e delle opportunità si intrecciano ai messaggi più creativi di band ed interpreti. La manifestazione è presentata questa mattina. Il senso di realizzare il primo maggio lì è quello di, come è venuto l'anno scorso, di recuperare, rivalorizzare una parte della nostra città poco fruita e davvero molto bella. Speriamo di bissare il successo dell'anno scorso, approfittando anche del fatto che c'è anche il 2 maggio, quindi il sabato mattina sarà possibile continuare a visitare la terrazza di Acradina per ascoltare ancora della buona musica con un concerto con 40 bambini provenienti dall'Ucraina e anche gli stand, alcuni dei quali presenti il venerdì si fermeranno anche il sabato mattina. Quindi ci auguriamo che ci sia anche una bella giornata e si possa godere appieno di questo weekend a Siracusa. Mi fa anche piacere sottolineare la partecipazione dei media a questa manifestazione, in particolare la presenza di Tris con la sua diretta su Tris News e con ampi spazi, mi diceva il direttore, sul canale principale, quindi grande visibilità a un evento che noi speriamo di far crescere di anno in anno grazie anche a queste collaborazioni. Innanzitutto ovviamente ricordare che è la festa del lavoro e dei lavoratori, forse anche del lavoro non c'è, ma nello stesso tempo all'interno di questa manifestazione valorizzare le forze, le energie e la creatività della nostra città e perciò la presenza delle band siracusane che daranno vita e ridaranno vita, perché questa è la seconda edizione, alla manifestazione. Parteciperanno 25 associazioni, ma è aperta anche da altre associazioni, sono associazioni che si occupano di diritti umani, di ambiente, di salute e saranno lì con i loro stand per raccontare le attività che fanno e sensibilizzare i suoi propri temi. Non solo, ci saranno attività sportive, attività animative per bambini, spazi gioco, perché vogliamo che la Balzacradia diventi un posto dove i cittadini si possono rincontrare, animarla, passare una bella giornata, come si faceva tantissimo tempo fa. La Regione Sicilia ha nominato un ispettore per verificare come mai non siano stati spesi in provincia di Siracusa ben 4 milioni di euro per l'edilizia scolastica. Nominato il dottore Francesco Riela, ispettore presso la provincia regionale di Siracusa, per verificare le motivazioni per cui al momento sono stati persi oltre 4 milioni e mezzo di euro destinati agli studenti e alle studentesse della provincia di Siracusa. Una situazione più volte lo scorso anno sollecitata ai vertici della provincia per verificare l'iter per evitare di perdere i fondi ministeriali destinati all'edilizia scolastica. Per questo motivo il 4 ottobre del 2014, quando i fondi si potevano ancora salvare, è stata chiesta una visita ispettiva finalizzata alla verifica dello stato dei progetti finanziati. A tal proposito, dichiara l'onorevole Vincenzo Vinciullo, con sette mesi di ritardo viene nominato finalmente l'ispettore che avrà cura di relazionare con urgenza sull'esito della verifica svolta e qualora ne risultino verificate le condizioni rapportando i fatti agli organi e alle autorità normativamente interessate. Non so se riusciremo a salvare questi finanziamenti, ha concluso l'onorevole Vinciullo, attività in cui sono quotidianamente impegnato, ma una cosa è certa, se i fondi verranno persi qualcuno dovrà pagare perché è insopportabile l'idea che gli studenti e le studentesse continuano a studiare in locali non sicuri, mentre i fondi già disponibili vengono perduti e restituiti alla comunità europea che li impiegherà in altri stati. Lo sport adesso ci sarà un incontro questa sera tra l'amministratore delegato al Bergamo e la proprietà del città di Siracusa, si tratta di un primo approccio per comprendere quale sia l'assetto societario e quali le strategie in vista del prossimo campionato. I serie D, i campionati ancora in corso non consentono ovviamente di varare dei programmi operativi, ma l'incontro servirà a chiarire alcuni aspetti. Per quanto riguarda i lavori allo stadio Nicola De Simone, consegnate le chiavi all'impresa che dovrà eseguire i lavori. Al momento tutto sembra fermo, ma in settimana dovrebbero essere avviati gli interventi per la ristrutturazione dell'ingresso, a cui seguirà quello relativo all'installazione della nuova pensilina alla Tribuna Centrale. L'amministratore delegato al Bergamo ha precisato comunque che per quanto attiene lavori alla gradinata dovranno essere a cura del comune di Siracusa, dato che si tratta di un problema di carattere strutturale, non soltanto di sicurezza per gli spettatori. Bene, con questo è tutto, il giornale si conclude, vi auguriamo un buon proseguimento di programma. Grazie a tutti.